Musica Andiamo a fare le piante Anche perché effettivamente fare le piante è un modo semplice per aggiustare il tiro con fuga Oggi non c'è scritto nessuno, peccato E dopo che siamo andati al santuario direi di fare quello che avevo detto l'altra volta Ovvero di sistemare per conto nostro eventuali problemi con i confidant Abbiamo un solo sito d'appuntamento, ne compreremo altri E vediamo chi dobbiamo sistemare Possiamo andare sul sicuro con Yukari O andare magari un po' più nello specifico con Bebe Bebe non credo che abbiamo problemi Credo che sia più utile utilizzarlo su Yukari e fuga Per adesso andiamo con Yukari Preghiera in corso, progressi 3% nell'attesa continua a concentrarti La barra dei progressi è bloccata al 3% Continuerò a pensare a Yukari Preghiera conclusa, il vostro rapporto si è rafforzato Dopo aver meditato sul nostro rapporto Yukari mi sembra più importante Va bene, va benissimo Sento che il legame con Yukari si è rafforzato È solo una sicurezza Se vuoi chiedere un'altra preghiera, acquista un altro passo a offerte È un modo sicuro di garantirci un'uscita Niente più, niente meno Eila, come va? Oh, sei tu Star, perché non andiamo nel tartaro stanotte? A differenza di prima, ora abbiamo un obiettivo chiaro Raggiungere la vetta del tartaro Non dobbiamo vacillare ancora prima di incontrare Nix Dobbiamo fare tutto il possibile Hai ragione, ma... Io ho un piano ragazzi, ovviamente Come al solito, prima di entrare Aspettiamo che succeda qualcosa Ad esempio, che qualcuno scompaia Anche se volendo essere un po' più specifici sulla situazione Noi, visto che adesso abbiamo l'obiettivo di andare ad uccidere il Reaper Se anche entrassimo più di una volta Potrebbe non essere uno spreco del nostro tempo E per quanto assurdo sembri da dire Per fortuna che domani torniamo a scuola Meno male L'ultimo giorno delle vacanze invernali Ma meno male, almeno abbiamo qualcosa da fare E avanziamo che confidante Grazie capo, grazie, grazie, grazie Andiamo ad aumentare la forza Bentornato, è bello rivederti E' bello sapere che ci sei E... no, non credo che uscire con Koromaru sia una soluzione oggi Tornerò di nuovo in sala giochi Perché Koromaru ho notato che Incontriamo... a parte Bunkichi una volta Abbiamo incontrato solamente le ragazze in giro No, non è vero, forse avevamo incontrato anche Ayase Forse una volta avevamo incontrato anche Ayase E meno male, oggi si torna a scuola Ma tanto domenica e lunedì siamo di nuovo a casa e quindi E vai Ma poi perché? Oggi inizia il terzo quadrimestre Così, cioè giusto per farti entrare a scuola Bella la musichetta che finalmente è cambiata Sento la gente che parla Ehi, hai sentito l'ultima sulle setta? Ehi, non chiamarla così se non ne sai nulla E poi l'arrivo della caduta è un dato di fatto Oh, beh, immagino che non possiamo fare nulla a riguardo Comunque per i compiti della seconda ora La prima campanella ha suonato Ormai mi sa che tutti si stanno convertendo, sai? Chi è che vuole parlarmi? Felice anno nuovo a tutti Le vacanze invernali sono passate Niente più alcol Ah già, siete minorenni Wow, mi dispiace per voi Ma visto che è un nuovo anno Ecco una domanda pertinente A chi toccherà? Ma guarda un po' Conosci il monaco chiamato Ikkyu? È quello così famoso che hanno fatto una serie basata sulla sua vita Beh, questo è ciò che ha detto a proposito dell'anno nuovo Il nuovo anno ci indica il percorso verso un certo luogo Di quale luogo sta parlando? L'oltretomba La morte Stiamo per morire tutti Sì, giusto Le decorazioni dell'anno nuovo sono solo pietre miliardi del percorso verso l'oltretomba Ikkyu era un vecchietto piuttosto Eccentrico Durante i festeggiamenti per l'anno nuovo Aveva con sé un bastone con sopra un teschio E diceva cose tipo La morte si avvicina I passanti che gli camminavano vicino Comunque se volete saperne di più su queste cose antiche Chiedete a Ekoda Voglio dire al professore Ekoda Beh, ora aprite i libri Oh Eh, effettivamente mi stavo Ho quello che ho pensato, eh No, non c'avevo Ah, assente con la testa, intendi Per un attimo ho pensato si fermasse a saltare Ho deciso di... Oggi c'è un bel tempo e fa caldo Vuoi essere lì sul tetto? Sarebbe bello farci una chiacchierata lassù Sei libero? Vieni sul tetto per un po' Juker e Junpei siano sul tetto Ho deciso di raggiungerli Beh Ormai Siamo sempre più vicini alla fine È uguale a tutte le altre È uguale a tutte le altre giornate, Jukeri Letteralmente È uguale a tutti Ma più che altro la cosa che a me sorprende È che la gente comune sa di Nyx La cosa assurda è che la gente normale sa di Nyx effettivamente È quello che mi sorprende come cosa Comunque c'è ancora tempo Già Salire o non andare sul tartaro Quella sarà una nostra scelta È anche per quello che non ho ucciso Ryoji Dana Dana Certo come no Come tutti gli altri eroi Una volta Eh certo come no Certo certo Mi aspetto grandi cose Mi fido di voi Bravi ragazzi Ti devo ricordare quest'estate Sì dopo che hai visto il video di tuo padre Credo proprio di sì In realtà eravamo in cinque Però dentro il tartaro eravamo solo noi Già Già Ovvero Esatto Siamo best offriendo Anche dovesse finire Sarà felice Che seccatura Che seccatura Ce la faremo Eh stavo pensando anche Esattamente a quello Esattamente E sapranno di sicuro Di nix Cioè Siamo onesti Il sess Facciamogli vedere il sass Cosa Vabbè effettivamente Hai rovinato il momento Però vabbè dai Un po' di spensierat Aegis Ciao Ciao nuovo Confidant Adesso a fine gioco Così Aegis Ciao Perché lei mi sa di Confidant Molto particolare Mi sembra strano Che te la fanno vedere adesso Solamente a fine gioco Sì Era da un po' So che non è il momento migliore Ma ho una nuova prospettiva Su così tante cose Phoenix Sun Hai impegni dopo la scuola oggi Se non ti spiace Vorrei tornare a casa con te Dammi solo un attimo Dammi un attimo Vado a duplicare le carte Ok Rieccomi Andiamo a casa assieme Grazie Oh Ma prima di tornare al dormitorio Vorrei andare in un posto Andiamo Certo Il santuario Hai cambiato prospettiva Ci sta Qui c'è Qui c'è Oh, è così che si fa, infatti Beh, ma già dall'inizio Volevi starmi sempre vicino Ti devo ricordare quando ti sei intrufolato nella mia stanza Quindi tu sei Ah, leone La stessa carta di Marie Che poi io non capisco perché le loro carte siano dorate È per quello forse in realtà anche che ho pensato che fosse Un Confident particolare Perché tutti i Confident che hanno delle carte strane Sono sempre particolari Anche Sumira all'inizio aveva una carta diversa dalle altre Però non capisco perché leone è dorata e le altre sono colore normali Socevole Hai sbloccato tutte le affinità sociali Eh, adesso dobbiamo anche maxarle però Ci abbiamo il tempo Beh E di cosa? Aige sembra malinconica Abbiamo deciso di tornare al dormitorio Malinconica per cosa? Adesso qualcuno mi chiederebbe di andare nel Tartaro Come è andata oggi? La scuola sembra diversa rispetto all'anno scorso Ha una strana atmosfera Non ti pare? Tanti studenti della mia classe parlavano di sette e altre cose strane Deve avere a che fare con l'arrivo di Nix Beh, fammi sapere se vuoi andare nel Tartaro Sì, te lo farò sapere Ma non è questo il giorno? Oh Dio Volendo Anzi Voglio assicurarmi Un futuro più tranquillo Visto che abbiamo Del tempo E Questi Ma andiamo avanti a Aigis oggi Così stiamo tranquilli Che la prossima volta Non ci chieda di uscire così solamente a caso Sembra conclusa Dopo aver meditato il nostro rapporto A Aigis mi sembra più importante Come se non lo fosse già d'altronde Ed eccoci anche oggi a scuola Lunedì che festa sarà? Non lo so Oggi le lezioni si sono finite Aigis tu rimani disponibile Tutti i giorni Per caso? Perché non vorrei fare l'insensibile E vorrei sicuramente finirti Passami il termine Il prima possibile Ma ho anche Fuka, Yukari e Bebe Da occuparmi E anche il tipo dell'arte Sei una bocca in più da sfamare ora Il più è che Siccome è passato quasi un mese Da quando siamo andati in vacanza Non vorrei che qualche rapporto si incrini Quindi andremo avanti con Aigis sì Ma voglio anche occuparmi degli altri Perché comunque con Yukari siamo a livello 5 Capiamoci che possiamo farcela Potrei dare un'occhiata a quella spilla che hai? Il fermaglio di pla Dio santo lo sapevo Lo sapevo che prima o poi serviva a qualcosa A sto maledettissimo coso Che foggia intricata E niente meno che in platino A dire il vero adoro gli oggetti in platino Che meraviglia Non avevo idea che di creazioni tanto magistrali Fossero acquistabili nel tuo mondo Vorrei che lo avessi tu Posso? Grazie Anche se non si tratta esattamente di una richiesta Lascia che ti dia in ogni caso una ricompensa Incenso del maestro Ne farò tesoro per sempre Dio mio se lo sapevo che a qualcosa serviva Lo sapevo Sarebbe bello vederglielo addosso però Allora possiamo fare un neone Per Aegis Ma mi richiede persone troppo buone Per essere sprecate così E degli amanti non abbiamo nessuno Quindi ci prendiamo Raffael Allora Bebe Quello dell'arte non c'è Perfetto Yukari usciamo Grazie Senti possiamo andare sul tetto Di nuovo Ancora Solamente sto posto esiste Sto mondo Eh come faccio a scordarmelo Mi aveva andato al fanculo Eh Ma non è dipendere Solo farsi aiutare sorella E adesso me la da No scherzo Quando vuoi Ci sarò sempre quando hai bisogno Yukari sembra sollevata di essersi tolta un peso dal petto Siamo sempre più intimi Ma non saremo mai dei veri amanti tesoro Mi spiace ho già Un posto qui occupato io Eh immagino Hai strada Da Certo come no Solo una persona Se ne dispiacerebbe Già La mia fidanzata A me non dispiace Facciamo Entrambi Ehi Mitsuru si è dichiarata a me Io l'ho detto di no Quindi Forse sono davvero stupido Ma in realtà da noi è quando qualcuno parla di te e ti fischia le orecchie Però effettivamente è vero Neanche negli anime mi ricordo quando uno starnutiva qualcuno stava parlando di lui È vero è vero Andiamo nel tartaro stasera Oh sei tornato Mancano solo tre settimane Il destino del mondo ora è tutto questo Non mi preoccupa Mi interessa solo andare avanti Per cui fammi sapere quando vuoi andare nel tartaro Uh Però l'idea di andare a fare le piante con Eiji Era da un po' che non c'era I vasi sul tetto Che con quelle nuove piantine Voglio vedere cosa esce fuori quasi con tutti Forse Junpei salterei Però Giusto farlo con tutti Che poi tutti Sono lui Loro due E Shinji Shinji è morto Quindi Vediamo chi mi scrive Bebe 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 O Fuka 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 Sei libero oggi Ah Ti rispondo dopo Anche se non è che abbiamo Chissà quale altra scelta Potrei uscire con lei E andare sul sito internet Con Fuka O Aegis No Fuka forse è meglio O Bebe addirittura Così da Sistemarci tutto Giusto per assicurarci Un futuro Lindepinto Usciamo con Iukari Adesso si che sembriamo una copietta Comunque E' un po' strano vedersi Nei giorni liberi Non trovi Se qualcuno ci vedesse Potrebbe far girare le dipinte Ancora E' la stessa cosa di prima Oh beh Immagino sia troppo tardi Per preoccuparsene ormai Ah ah A proposito Che cosa fai di solito Nei giorni liberi Esco con la gente Guardo cose Non che voglio farmi Gli affari tuoi Ero solo curiosa Esco con gli amici Letteralmente Capisco Tipo quello Che stiamo facendo oggi Ma certo Di sicuro Tutti piace uscire Con te Star Kun Iukari Annuisce Da oggi Siamo molto più in intimità Oh è già così tardi Nei giorni liberi Il tempo scorre più velocemente Pre di tornare Andiamo da qualche altra parte Sfruttiamo al massimo La giornata Guidami pure Abbiamo chiacchato Un po' Siamo tornati al dormitorio Tutto ciò Solo per assicurarci Un posto futuro Oh di nuovo Ma si dai Così ci assicuriamo Che anche lei Vada avanti Perché nonostante Le piante Tutto eh Vuol dire anche avere Un minimo di bonus in più E forse dovrei prendermi Una persona del leone Per avere ancora più punti Con lei Certo in realtà Il bonus che prendiamo Da queste cose È minimo Quindi non cambia di molto Però Già due volte Vuol dire tanto E oggi pure siamo a casa Che festa eh Oggi è il giorno Della maggiore età Non si va a scuola Ma quante belle feste Che ci avete Ho qualcosa per te Ma di sicuro È qualcosa per me bello Vediamo Sicuramente è arrivata Roba nuova Illusione fisica Illusione magica Bassa Beh Aegis 100 E Aegis 0 Beh forza più 3 Tutta la vita Anche perché Aegis Era da un bel po' Che non compravamo Nuove scarpe Quindi Autorribellione Assolutamente Tieni Tutte le statistiche Più 1 Assolutamente Grazie degli acquisti Bellissimo questo Agilità 7 E ignora le resistenze nemiche Ci serve del diamante Assolutamente Ci servono davvero Tanti diamanti Autotaracubellione Aumenta attacco In chance di critico Madonna mia Questo per Akiko Effettivamente È una gran bella cosa Sai Beh anche per Junpei Non è male Smeraldi Ne abbiamo La quarzita Si trova tanto in giro Non mi va di sprecare I rubini per questo Però cavolo Wow Che bella giornata Di niente in giro Oggi Madonna mia Ce ne rentola Già al massimo Oh Salve Oggi è il giorno Della maggiore età Non voglio che la mia vita Finisca prima di diventare adulto Vorrei andare nel tartaro Stanotte Non posso starmeli qui Da aspettare che il mondo finisca Sono combattuto Perché potremmo entrare Potremmo entrare Tranquillamente Ed entrarci anche una seconda volta Ma nell'ipotetico caso Che riusciamo A battere adesso Il mietitore Sento che poi Non avrebbe più senso Entrarci la volta dopo Io La tento D'accordo Andiamo nel tartaro D'accordo Radunerò tutti quanti Ci arriveremo in cima oggi Mi manca un po' Vedere l'effetto Della nuova carta Che si attiva ogni volta Aegis Ci abbiamo un bel vestito Da maid Per te oggi Devi venire in squadra Si è rimasta un po' Tanto indietro Bella mia E vediamo Se la mia idea Ha funzionato Quindi quella che è rimasta indietro Ora è Mitsuro Aegis E ci portiamo ancora Koromaru Ancora Me lo son dimenticato di nuovo Giuro che prima o poi La smetterò di dimenticarmene Di questa cosa Quella della rarità Ovviamente Andiamo nel tartaro Iniziamo a farci un po' La risalita Ma la spada qui Sembra Una di quelle che avevamo Inizio il gioco Sai Hanno riutilizzato Un sacco di modelli In questo gioco Devo essere onesto Ha Subito Così Daglie Allora Primo ci diamo Un'ombra normale Così vediamo se Aegis aumenta Mano arcana Così gratuita E Aegis è salita In tutti i livelli Che gli mancavano Fantastico Grande Forza primordiale Ah Peccato Per un livello Peccato E ora Andiamo a menare Un'ombra d'oro Presa E addio la mano d'oro Siamo un po' a corto Di frammenti Ora che ci faccio caso Sai Concentrazione Madonna mia Che culo Manco abbiamo iniziato Ombra d'oro Concentrazione Tutto Madonna mia Ne abbiamo manco iniziato Beh E questo è stato Un bel colpo di fortuna Ma quello che dobbiamo fare ora Ovviamente Prendere tutte quante le carte Per la Mano arcana Dunque Chi è che ne ha più bisogno Beh Mitsuru Assolutamente Peccato che Aegis Però è salita solamente Ai livelli Di quando abbiamo fatto La sala dell'orologio Peccato Però sarebbe utile Da aumentare Sai Se no aumentiamo Qualcuno come Junpei Dai Junpei Junpei e Mitsuru Perfetto Sono saliti subito Di livello Lama Turbinante Addio Maraghi E Lama Vorpal Quindi Junpei Basta Ha finito tutti quanti I suoi attacchi Ottimo Junpei è il primo Ad arrivare alla fine Di tutto quanto Anche lei adesso Però Oh Guarda un po' Loki Signore della magia Beh Questo Mi semplificherebbe La vita Invece che comprare la carta Oddio Comprare la carta Ci serve comunque Però L'unico che deve salire Di livello Mi sono dimenticato Di mettergli l'abilità Bravo idiota Concentrazione Però la dobbiamo Moltiplicare Di sicuro Ed eccola qui La nostra prima carta Per l'impeto arcano Abbiamo appena avuto Un grande culo In questo momento Di solito Una roba del genere Non la prenderei Ma voglio farlo adesso Per fondere subito La persona Di cui abbiamo bisogno Anche se ci manca Ancora un pezzo A questa piccola torta Per essere completa Se vogliamo fare Pignoli 2 Mi servirebbe anche La carta Degli amanti Così ci becchiamo Ancora più bonus Il primo pezzo Se ve lo chiedete Ovviamente È che Magazzo Izanagi Salga di livello E per quello Abbiamo bisogno Di un po' Di mannine doratine Eccolo qui Il primo dei due pezzi Gli amanti Più punti esperienza Alle persone Che faremo Qui nel tartaro Secondo componente Preso Magazzo Izanagi Potenziamento Tutte e quattro Le abilità Ottenute Le azioni nostre Vuoi mandare qualcuno? Vai pure Aegis E a questo giro Usiamo il potere Di fuga Per andarci Dal tartaro Registriamo Tutte le nostre Nuove persone Creiamo Mott Con Magazzo Izanagi Ovviamente E lo facciamo Con Eketon Kair Che a questo giro Ci abbandonerà Ha fatto la stessa fine Oni Alla fine Potenziamento Debilitazione Carica E concentrazione Nella speranza Che se si deve evolvere Qualcosa Non si annulla Di queste quattro Meno male che non c'è stato Un incidente di fusione A sto giro Meno male Questo Mott Ovviamente Lo registriamo Fusione speciale Ah è così Susano Sai che non è neanche brutto Esteticamente Molto figo Mi piace un sacco Comunque Non siamo qui per quello Siamo qui Per Thanatos Abbiamo già Mott Abbiamo già Alice Tutto il resto Lo pagheremo Amplifica oscurità È anche una bella abilità Peccato che non ci serve Normalmente questa persona Sarebbe oltre il potere Che attualmente possiedi Ma con la benedizione Dell'arcano del sole Sembra che tu Posterai fonderla Allo stesso Grazie E ovviamente Nonostante la grande potenza Della suddetta persona Potenziamento Debilitazione Carica Concentrazione Abbiamo ancora spazio per una Potrei mettere Sopporta luce Per il momento Magari Abbiamo culo Si trasforma In resisti luce Sarebbe bello Sono Thanatos Tu mi hai dato vita E al tuo fianco cammino Grande Rioji Bentornato in squadra 84 di livello Sti cazzi E Megidolan pure Beh certo Ovviamente Thanatos Diventa la nostra nuova Persona iniziale Di ogni battaglia Agilità 51 Beh diciamo che È in linea Con tutto quello che abbiamo Ha tanta resistenza Tanta magia Tanta forza Poca la fortuna Ma quello Poco ci frega Ha più resistenza Di Cenerentola E di uno inferiore A Siegfried Quindi tutto quello Che faremo ora È insegnargli Tutto quello Che gli serve Precisione a tutta la squadra Difesa a tutta la squadra E basta Per il momento Ci manca quello Dell'attacco E ribellione Vedremo Che se poi ci pensi Potenziamento Non ci serve Neanche così tanto Visto che Essendo una persona Che va in auto Suona stupido Effettivamente così Non ci toccherà mai Potenziarci A meno che la battaglia E Thanatos Solamente Per iniziare A trasferire Amplifica oscurità A un po' di persone Però Oh magari abbiamo fortuna Che poi Attis non è neanche male Il mio nome è Attis Verserò il mio sangue Per te Per scatenare la magia Che mi scorre nelle vene Quali vene Che non ce ne hai Benda del dio del sacrificio Grazie Già che ci siamo Facciamo anche Saturno Con amplifica fuoco Bello Io sono Saturno D'ora in poi ti seguirò E ridurrò Incendere i tuoi nemici Con le mie fiamme Non ho mai capito Se era più forte Surt Oppure Saturno Bello Amplifica oscurità Fuoco e vento Pure lui aveva potenziamento Madonna mia Se lo facevamo adesso Eravamo sistemati E riflette ghiaccio Addirittura Questo è utile La meretrice Dio mio Troppe debolezze Per se è una persona Così avanti Però carina Ed infine Thanatos e Siegfried Questa mi costerà caro Fanno scadi Con polvere di diamanti Il mio nome è scadi Emergo dalle profondità Del tuo cuore Per donarti forza Sarò sempre al tuo fianco D'ora in poi Perfetto Polvere di diamanti E amplifica ghiaccio Ottimo Così abbiamo Un po' tutti gli amplifica Un po' da tutte le parti E assorbi fuoco Quello è utile In questo momento Abbiamo tutti gli amplifica Possibili Immaginabili In giro Credo mi manchi Amplifica luce E volendo fare un po' Gli stronzoni Tutto questo Era solo per rifare Loki Perché a parte Odino Con tuono prorompente Che danno grave A tutti i nemici Tutti gli alti E danno grave A un nemico Inferno Pantarei E polvere di diamanti E polvere di diamanti Ma dopo Possiamo arrivare A fare persino Vishnu Qua non è con molta scelta O prendo due carte O prendo due carte Che poi tra l'altro Il testo è anche diverso La mano arcana potrà scegliere Una carta in più Finché sei Nel tartaro E qua Scegliere una carta in più Punto Però se si attiva adesso Posso scegliere anche l'altra Ah che peccato Sarebbe stato bellissimo Se si attivava Che sfortuna Ho appena sgamato L'ennesimo errore Di traduzione Perché qua dice Elettrico grave A tutti i nemici Ma se lo utilizzi È solo su uno Credo proprio Che se riusciamo A spostare Tutte e quattro Le abilità Loki diventerà Una gran bella persona O anche chi per lui A questo punto Oh Questa È una mano arcana Punti esperienza E doppio di oggetti Se alla prossima Troviamo anche ancora Quella della carta Basta Questo è il miglior impeto arcano Che abbiamo ottenuto Fino ad ora Giusto giusto Due carte Sono state inutili Ok mi devo liberare Di questo altro Hecaton E Futsunushi Non ce l'abbiamo Io sono Futsunushi Sono la divinità Delle spade Che hanno portato Stabilità a questa terra Temprerò anche La lama del tuo cuore In realtà Non è che ci servisse Era solamente per togliere Hecaton Che ad ora Non ci serve E avere qualcuno Di decente Con supporto medico Perché ora come ora Siamo sprovvisti Perfetto E con le ultime fusioni Che abbiamo fatto Otteniamo Anche l'altra ricompensa Anche l'altra ricompensa Di Loki Hai di certo fatto Surgere Loki A livello desiderato Ottimo lavoro Richiesta completata Ora come tua ricompensa Ti ho preparato Qualcosa di speciale Con questo Riuscirai a fondere Masakado Dell'arcano della torre Masakado è incredibilmente forte Ti servirà a essere Ugualmente potente Per poterlo controllare Ma senza dubbio Sarai all'altezza della sfida Ecco la tua ricompensa Masakado Il guardiano di Tokyo Ovviamente Fondi Masakado Certo Con l'abilità carica Vediamo il suddetto Masakado Cosa ci vuole per farlo Secondo me È una fusione speciale Masakado Eccolo qua Ah Ho capito qual è Ok ci voglio tutti e quattro I guardiani per farlo Qualcuno ha per caso carica Peccato Però dovrei averla La carta in teoria Anche Susano Comunque sembra figo Grazie a tutti